Il movimento migliora la salute sia fisica che emotiva ed è fondamentale per la crescita dei bambini. Eppure gli studenti trascorrono dalle 5 alle 8 ore al giorno in classe seduti su una sedia e solo due ore settimanali sono dedicate al movimento. Per questo motivo è nato il progetto Muovi Insieme, promosso dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute. L'iniziativa permette di valorizzare il legame tra scuola e territorio e di svolgere l'attività didattica all'aperto per esplorare e apprendere in un ambiente giocoso, promuovendo così il movimento. L'attività fisica infatti previene l'obesità, la pressione alta e malattie come il diabete, il cancro e le patologie cardiovascolari. Inoltre favorisce lo sviluppo psicologico e sociale del bambino, incoraggia l'interazione e l'inclusione e allevia lo stress. Diverse regioni italiane hanno già aderito a Muovi Insieme. Scopri di più sul sito www.muoviinsieme.dors.it e partecipa anche tu al progetto. Muovi Insieme, per una vita più sana e una scuola che promuove salute. Grazie per la visione!